Sarà l'esame del DNA stabilire se i resti ossei trovati stamani nelle campagne di caronia appartengono al piccolo Gioele Mondello, il bambino di 4 anni sparito il 3 agosto scorso con la madre Viviana Parisi, trovata poi senza vita. I resti, un femore e il tronco, sono stati individuati in contrada sorba, circa 200 metri dall'autostrada Messina-Palermo, dove la DJ torinese aveva abbandonato l'auto dopo un tamponamento. A trovarli, insieme a una piccola maglietta, è stato un ex carabiniere di Capodorlando, giunto sul posto insieme ad altre decine di volontari che avevano raccolto l'appello di Daniele Mondello, il papà di Gioele, a cercare insieme a lui il figlio. Le ossa si trovavano a poco meno di un chilometro dal luogo in cui lo scorso 9 agosto è stato recuperato il cadavere della madre, ai piedi di un traliccio. Non è escluso che siano stati portati nel luogo del ritrovamento dagli animali selvatici presenti nella zona. Subito dopo la segnalazione, sul posto è giunto il procuratore capo di Patti, Angelo Cavallo, insieme agli agenti di polizia, ai vigili del fuoco e agli uomini della forestale. Quindi sono arrivati anche i familiari del bambino, tra cui il nonno paterno Letterio Mondello, a cui saranno mostrati gli indumenti strappati e la magliettina.